L'educazione dei giovani, la salvaguardia dell'ambiente, lo sviluppo e la lotta alla povertà. Sono stati questi alcuni dei temi al centro dell'incontro tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica del Perù. La Sala Stampa Vaticana ha riferito inoltre che nel corso dei cordiali colloqui sono state evocate le buone relazioni che intercorrono tra la Santa Sede e la Repubblica del Perù, che avranno un momento significativo nel prossimo viaggio apostolico del Pontefice nel Paese. Passate in rassegna anche alcune situazioni regionali e internazionali.